Sole, mare, voglia di bellezza e divertimento. Napoli regina dell'estate non solo per gli stranieri ma anche per gli italiani che nonostante il caro vacanze si concedono qualche giorno di colore tra musei, spiaggia e piatti tipici. Dal fascino del lungomare con il Vesuvio che incombe al centro storico brulicante di vita e di bellezza, Napoli riesce sempre a stupire il turismo nostrano. Secondo l'ultima stima dei dati Istaz relativa ai turisti italiani, dopo la prima volta in città a dire di voler tornare nel capoluogo campano sono oltre 9 soggetti su 10. In questi giorni tantissimi turisti italiani che hanno fatto tappa a Napoli, provenienti da buona parte della penisola, soprattutto dal nord Italia e anche dalle due isole maggiori. Ma cosa piace realmente della città di Pulcinella? L'abbiamo chiesto direttamente ai turisti. Perché comunque è una città molto bella, attualmente si è impegnata col turismo, ci sono tantissime cose belle da vedere, Napoli sotterranea soprattutto, Cristo velato e tantissime altre cose. Molto mediterranea, io arrivo dal Marocco quindi è molto simile e non sembra di essere in Italia, questo è vero, c'è una differenza enorme, noi arriviamo dal nord, però è amabile, è molto 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 bella. Napoli è una grande piazza tra i tanti turisti ed è giusto che sia così, anche perché offre tranquillità, calma, bellezze storiche, architettoniche. È bella e sì, noi siamo di passaggio perché veniamo dalla costa amalfitana, ci siamo fermati qui un giorno, ieri abbiamo visitato Capri, siamo andati a Sorrento e ci siamo fermati una notte qui e oggi ripartiamo perché la tappa è d'obbligo secondo me. È veramente pazzesca per ora, vediamo, è tutta una scoperta, una grande scommessa, ecco ci siamo fatte.